C'è un solo modo per impedire il salasso sul pedaggio autostradale, ormai alle porte, quello di intervenire con la legge e a farlo devono essere il Parlamento o il Governo con un apposito decreto, visto che ci sono le caratteristiche dell'urgenza. A dirlo è il consigliere regionale con delega trasporti Maurizio Di Nicola, che a pochi giorni dallo scoccare di un rincaro automatico dei pedaggi autostradali su A24 e A25, dal 1 gennaio 2019, chiede al Ministero di mantenere fede agli impegni presi nei confronti dei sindaci dei comuni attraversati dalle autostrade e pronti a marciare verso Roma lunedì 31 dicembre, in attesa di un provvedimento ministeriale che blocchi il salasso come quello voluto dal Ministro Danilo Toninelli nei mesi scorsi. Il Ministero deve tenere fede agli impegni presi perché lo strumento parlamentare, la legge, è l'unico strumento che può dare una risposta alle esigenze che i sindaci, il territorio, la regione Abruzzo, gli utenti manifestano ormai da anni. Si tratta di mettere a fuoco il PEF secondo le indicazioni che anche l'impresa ha manifestato per poter fare l'adeguamento per la sicurezza e tutto ciò che serve alla manutenzione, oppure si tratta di calmirare le tariffe con un provvedimento legislativo nazionale perché l'unico ente autorizzato a dire qualche cosa di giuridicamente vincolante è il Parlamento, oppure il Governo anche in urgenza trattandosi di una situazione che a questo punto ha le caratteristiche dell'urgenza. La protesta dei sindaci condotta meritoriamente per tutto un anno e il fatto disdicevole che questi non siano stati ricevuti nelle ultime occasioni dal Ministero credo che marchino perfettamente qual è la situazione. Noi non possiamo assolutamente attendere tempi lunghi per avere una risposta. Io ho evitato di partecipare in alcuni dei momenti di protesta per evitare che si potesse dire che c'erano ragioni di campagna elettorale, ma appoggio completamente la protesta dei sindaci. Ho partecipato nelle prime occasioni quando l'interlocuzione era con il Ministro del Rio, quindi della stessa parte politica. A noi cambia poco che al Ministero ci sia del Rio o che ci sia Toninelli. Il Ministero è il soggetto autorizzato per legge a dare la risposta che gli abruzzesi si attendono. Noi la sollecitiamo con forza.